Parleremo appunto di tettonica delle placche legando anche la tettonica delle placche a quello che è l'evidenza più eclatante in superficie della tettonica delle placche che sono i vulcani. Tra l'altro recentemente possiamo godere di uno spettacolo eccezionale che ci sta regalando ogni giorno l'Etna, quindi diciamo quanto mai più attuale di questo per poter introdurre questo tipo di argomenti. Chiaramente l'uomo della tettonica delle placche di GeoMapUp è il nostro Michele Zucali che molti di voi già appunto conoscono. Conoscono Michele Zucali, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, si occupa di geologia strutturale ma si occupa anche tanto di diciamo contatti con il mondo della scuola, per cui ha tutti gli strumenti e tutte le carte in regola per poter diciamo guidarvi in questo mondo. Quindi niente, io lascerei la parola a Michele per una breve introduzione sulla app che è appunto su GeoMapUp, quindi sulla tettonica delle placche o comunque su GeoMapUp e poi la nostra idea era quella di guidare un po' questi viaggi anche sulla base delle vostre richieste. Sostanzialmente un po' potreste guidare, guidarci verso nuove mete e noi cercheremo di accompagnarvi con le nostre conoscenze. Quindi interrompo la condivisione in modo tale che Michele possa condividere la sua presentazione o chiaramente immagino visti i numeri possiate comunque eventualmente interrompere o scrivete sulla chat o interrompete se avete delle domande chiaramente nel corso della presentazione. Assolutamente sì, interrompete anzi direi che vista l'idea di partenza ma ancora di più visti i numeri è ancora più bello e più facile anche per voi sfruttare l'occasione di essere in poco e poter intervenire, ha detto giustamente Patrizia guidare, in qualche modo faccio da controllore dello strumento per la guida ma sono ben felice di rispondere a vostre sollecitazioni per decidere dove dirigersi. Una cosa che volevo aggiungere come introduzione è in qualche modo legato a questa Digital Week, in qualche modo al fatto che in generale nell'utilizzo di questo strumento negli anni, il motivo per cui davvero mi piace molto e lo trovo di grande utilità è che ci permette di unire vari ambienti, l'ambiente della ricerca, luogo in cui nasce, a livello globale, l'ambiente dello studio per gli studenti, in primis quelli dell'università, con i quali noi abbiamo a che fare, con i quali utilizziamo questi strumenti e i quali utilizzano a loro volta questo strumento, ma in modo che io ho trovato ancora più utile questo utilizzo in ambito didattico a livello delle scuole superiori, diciamo, col quale ho iniziato molte attività e a mio giudizio stanno dando grandi risultati proprio nel cambiare certi paradigmi di approccio allo studio in generale, ma ovviamente nel caso più specifico alle scienze della Terra, in ambito, diciamo, con una concezione molto ampia, per chi ha già dato un occhio, ha già avuto possibilità di vedere un po' Geomap Up, non è soltanto la tetonica delle plache, è tanto, tanto, tanto di più, ma ancora di più Digital Week in qualche modo allarga ancora di più e spinge come idea principale il concetto di rendere, diciamo, la scienza, i dati scientifici, a disposizione di tutti, ma in modo molto libero, molto libero nel senso che non solo possono essere, diciamo, visibili, accessibili, possono essere proprio elaborati, quindi Geomap Up rende facile, abbastanza facile, questo tipo di attività e per questo mi piace spingere molto e per questo abbiamo messo un po', come dire, questo in diretta su Geomap Up, perché sono in diretta, perché noi possiamo vederli, decidere noi che cosa guardare, ma selezionare anche i singoli dati, non soltanto una sintesi fatta da altri, quindi è, come dire, una bella idea quella della Digital Week di cercare di trasferire non solo gli strumenti tecnologici, ma anche i dati attraverso gli strumenti tecnologici, i dati scientifici in particolare, in questo periodo, molto importanti. Quindi quello che faremo oggi è giocare con questo strumento, giocare, davvero giocare, nel senso che rende molto più divertente, quantomeno per me, ma ho visto anche per altre persone, elaborare certi tipi di concetti che magari letti sui libri non è che siano particolarmente divertenti, particolarmente piacevoli, con i quali attraversare, diciamo, un certo numero di ore. Quindi utilizzeremo questo Geomap Up, vi farò una breve introduzione allo strumento, per poi, appunto, iniziare, diciamo, un viaggio in alcuni luoghi della Terra, usando come base questo strumento, usando come base, diciamo, potremmo estendere a un numero molto elevato di tipologie di dati, ma io cercherei di stare fisso su quattro tipi di dati, che sono questi terremoti, vulcani, la topografia, l'età della crosto oceanica, ora li guarderemo, perché con questi è possibile, diciamo, già farsi un'idea della complessità, ma farsi un'idea di come funziona questo strumento, che ci permette di davvero trattare questi dati, trattareli noi. Quindi iniziamo, diciamo, da quello che è scaricare l'applicazione, che è un'applicazione libera, geomapup.org, la si può scaricare e installare su qualunque sistema operativo, non la si può installare su dei tablet, deve avere, diciamo, un processore, una struttura, un'architettura un po' più complessa, ma poi va liberamente su tutti. E la si fa partire in modo, diciamo, molto semplice, non richiede nessuna registrazione, né nulla, nessun pagamento in alcun modo, è una piattaforma scientifica e anche, come dire, l'interazione con chi la produce, chi la sviluppa, è molto veloce. Ieri ho scritto a loro perché avevo un pensiero riguardo a oggi e mi hanno subito risposto, abbiamo subito iniziato a scambiare. Vedremo poi due concetti, diciamo, di, se vogliamo, cartografia digitale, i raster, i dati vettoriali, perché sono i due oggetti che principalmente GeoMapUp ci permette di utilizzare. Se questi due concetti fossero in qualche modo lontanissimi, incomprensibili, fermatemi e che ne parliamo immediatamente. E vi dicevamo che avremmo fatto poi qualche giro partendo da dei punti di partenza, come dire, scelti da noi per dei motivi che subito capirete, non sono del tutto casuali, ma poi ci muoveremo verso luoghi, diciamo, anche altri luoghi. Parto proprio e userò l'applicazione, come dire, in modo indiretta, ed è per questo che è indiretta questo, questa, questa, diciamo, momento di Digital Week. L'applicazione parte con una prima finestra e poi si subito inizia a caricare dei dati. c'è un accesso al database, accesso al database che comporta, e questo è il primo elemento, la necessità di avere una rete attiva. Si può lavorare con dei dati scaricati, ma è più complesso, è più complesso anche perché limita in qualche modo la nostra libertà di andare in giro e raggiungere dei dati nuovi. L'immagine che avete sotto gli occhi è che è l'immagine, diciamo, di base del DigiMap App, è un'immagine che tutti noi conosciamo, è di default così, possiamo tranquillamente, diciamo, cambiare la scala a cui la vediamo, cambiare i luoghi, localizzarci, zoomarci, diciamo, sopra, e l'immagine diventa via via più dettagliata in funzione dell'ingrandimento che noi raggiungiamo. Fino al suo limite, tant'è che a un certo punto, quando ci avviciniamo e ci avviciniamo troppo, iniziamo a vedere, diciamo, i limiti un po' frastagliati di questo oggetto, anche se, come vedete, continua a essere ad una buona risoluzione. Però vediamo che qui le linee di costa, questa è, diciamo, la differenza tra verde e bianco, inizia a mostrare dei gradini, gradini che sono i pixel delle immagini raster. Quindi questi sono gli elementi di base, i raster, quindi delle immagini, dei fogli, diciamo, interi divisi in quadretti, ogni quadretto ha un'informazione. Che informazione ha in questo caso? Ha un'informazione molto basica, anzi direi quasi nulla, Cioè ogni punto in cui mi muovo, lo vedo in quei numeri che cambiano, via via che muovo il mio puntatore con l'ingrandimento al più, vedo dei numeri che cambiano e quelli sono chiaramente delle coordinate. A destra di quelle coordinate ho una scritta zoom 4673.6, quindi quello mi indica, diciamo, quanto zoom ho applicato a questa immagine. Ma come vedete non c'è altra informazione. Cosa vuol dire non c'è altra informazione? Che, benché per noi sia ovvio che questa immagine rappresenta la superficie terrestre, la superficie in senso totale, nel senso che qui non c'è differenza tra, diciamo, terra e mare, cioè tutto questo colore è tolta l'acqua, quello che vediamo quindi in questo caso è il fondo del mare. Qui vediamo invece delle pianure e qui vediamo delle montagne. Ma come facciamo a vedere questa cosa? Lo vediamo grazie a una rappresentazione cromatica che c'è, come si può dire, che c'è familiare sin da piccoli. Come dire, sin da quando si andava a scuola, parlo per me, come dire, in un tempo lontano, le carte che erano appese sui muri portavano più o meno questi colori. Quindi io vedo il bianco, vedo il verde, vedo il marrone, vedo il blu, immagino che qui ci sia il mare, che qui ci siano delle montagne variamente elevate, il verde siano delle pianure e queste siano montagne sempre più alte. Quindi cosa dovrebbe significare questo? Dovrebbe significare un'altitudine, un'altezza rispetto al livello del mare o sotto il livello del mare. Ma in realtà questa informazione non c'è, non è rappresentata qui, è soltanto una rappresentazione di colore. Allora Geomapa in realtà ci permette, costituito da una serie di menu, tutti questi, il più importante, diciamo soprattutto per il più importante per oggi, è questo menu dove come vedete c'è un data layers, quindi sono dei livelli di dati e ogni livello è una famiglia molto grande, battimetria e topografia, climatologia, criosfera, geochimica, geologia, geofisica, impatto umano, oceanografia, remote sensing, quindi tutta una serie di categorie molto ampie. Se andiamo in battimetria vediamo che ha dei modelli globali, delle battimetrie, dell'elevazione della terra, andiamo su global models per le battimetrie e seleziono io perché diciamo lo so, ho già passato del tempo a guardare qui dentro, clicco su topografia e battimetria, questa di Smith, vi dirò poi perché uso questo, è un motivo molto semplice, lui accede a un database, quindi va, diciamo fisicamente, elettronicamente in qualche luogo, carica delle informazioni e le scarica, diciamo temporaneamente sul computer e le rappresenta su queste immagini, vedete che prima io ero zoomato su questo rettangolo, adesso mi sono allontanato, lui ha dovuto ricaricare dei dati. Che cosa è cambiato? Va, a parte i colori, ma come vedrete i colori li possiamo cambiare di nuovo, sembra non essere cambiato nulla, ancora l'immagine della superficie terrestre, con questa manina io mi posso muovere, vedete questa porzione non era stata ancora caricata, viene riscaricato il dato topografico e rirrappresentato, sembra non essere cambiato nulla a parte i colori, ma se io mi muovo, adesso e guardo i numerini là sopra, ho ancora le coordinate, ho ancora il livello di zoom, ma ho un altro numero, non mi posso avvicinare troppo, se no scompare. Vedete che c'è 64.9 metri, quindi questa immagine in realtà, oltre all'informazione delle coordinate, quindi x, y e allo zoom, mi dà anche la z, mi dà la quota verticale di ogni punto, di ogni pixel, anche questo è un raster, quindi se io torno nei luoghi dove ero stato prima, e sì, sapevo esserci il mare, sì, sapevo esserci le montagne, ma non conoscevo la quota reale, la ricostruivo, perché io, come dire, la mia conoscenza era tale per cui, ovviamente questa è l'Himalaya, e io so quanto sono alte le montagne, ma se mi muovo qui, vedo che sono a questo punto segnate le quote, vedete, 4.760.8 metri, se mi muovo qui, 5.000, 6.000, 5.000, vado qui, 264, vado qui, 600, vado qui, 1.674, vado qui, meno 2.000 metri, vado qui, meno 5.800 metri, quindi la grande prima differenza è che ora l'immagine non è solo rappresentata graficamente in un modo che ci ricorda delle quote, ma proprio porta con sé delle quote, questo produce il primo salto di qualità, ho dei dati, sono lì questi dati, e questi dati potrei addirittura salvarli, e, come si può dire, usarli esternamente a questo oggetto, le potrei salvare sia come immagini che con altri formati, KMZ, Google Earth, oppure anche come dati di testo, dei numeri, cioè lui potrebbe scaricare di tutta questa immagine, di ogni pixel, le coordinate, XY e la Z, quindi avrei un foglio di testo pieno di numeri, di cui sono coordinate e quota, ma in questo caso non lo facciamo, che cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo giochicchiare con questa informazione, questa informazione in modo più semplice, e più divertente, con Geomap App, è questa funzione, che è un profilo, ci permette di tracciare delle linee, vedete, io traccio delle linee, e lui raccoglierà il profilo altimetrico, e me lo mostra, eccolo, addirittura se io mi muovo lungo il profilo altimetrico, vedete che c'è sulla linea che ho disegnato, che è rimasta lì, c'è un puntino rosso, è un tondino nero, ecco, lui sta mostrandomi, mostrandoci, dove è rispetto a questo profilo. Quindi vedete come è fatto il profilo altimetrico, passo da quote, sostanzialmente vicino allo zero, qualche lieve profilo topografico, a una muraglia, ma una muraglia, che da zero ci porta a 6.000 metri, o a una media di 5.000, va bene, quello che si chiama plateau topografico, ma con una muraglia, cioè da zero a 5.000, ci vado in 700, 800, 200, 250 chilometri, vedete che questi qua sono chilometri, la distanza, questi invece sono metri, da zero a 6.000 metri, per cui vedo, immagino anche chi vive qui, che cosa possa vedere, da un punto di vista proprio, delle forme che ha di fronte, a una muraglia di 5.000 metri, allora posso provare a muovermi, cosa accadrà qui, dove siamo qui, vediamo dove siamo, che magari non tutti hanno l'agilità, diciamo di muoversi in queste aree, vediamo questo è Nord America, questo è l'Asia, questo è Sud America, l'Australia, quindi siamo qui in mezzo, Oceano Pacifico, vedete tutto blu, 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 cosa vuol dire già che sia tutto blu? Vuol dire che le quote non cambiano, ogni colore è in funzione della quota, allora se io provo a fare un profilo, tirando una riga qui, questo è il profilo, fate attenzione alla scala verticale, si passa da meno 6.000 a meno 4.000, quindi 2.000 metri, e continuo su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, sali, scendi, sali, scendi, qui un salterello di qualche centinaio di metri, di miliardi di metri, un miliardi di metri, neanche, in quanti? Questi sono chilometri, in 4.000 chilometri, quindi se facciamo un raffronto a quello che abbiamo visto prima, non succede praticamente nulla, in 4.000 chilometri la topografia non cambia quasi per niente, quindi ho due zone che da punto di vista, proviamo a fare una sezione nord-sud così, quant'è lunga questa? Questa è 8.000 chilometri, variazione topografica meno 5.500, meno 4.000, 1.500 metri, come dire, una montagnola, sì, c'è una variazione topografica, ma niente, rispetto a quella che abbiamo visto prima sull'Himalaya, assolutamente nulla, proviamo a muoverci in altre zone, se avete preferenze ditemelo, io faccio quello che volete voi, proviamo ad andare qui in mezzo, in mezzo all'Oceano Atlantico, proviamo a tirare una linea tra il Nord America e l'Africa, allora lui disegna un arco, volendo posso fargli tirare una linea, ma l'arco perché lui immagina la sfera, cioè immagina, fa riferimento alla sfera, o qualcosa di un po' più divertente direi, proviamo a metterci in relazione con con questo oggetto, ecco, più o meno le dimensioni sono queste, vediamo la distanza orizzontale, sono da 0 a 8000 km, quindi più o meno come quello che vedevamo prima nell'Oceano Pacifico, come lunghezza, aspetta però ha una geometria strana, guardate qui, qui 0, qui 0, quindi due belle spalle fino a dove? Fino a qui, guardate dov'è qui sotto, qui sono esattamente dove termina sostanzialmente quello che noi chiamiamo normalmente i continenti, con un termine non strettamente geologico che è lo stesso termine ma in geologia ha un significato un po' diverso, cioè viene esteso ad un concetto un po' più ampio. Da qui a qui ho un crollo ma da qui a qui ho un crollo di 3000 metri in 200 km quindi torniamo in una situazione un po' come abbiamo visto sull'Himalai in cui in pochissima distanza orizzontale ho un crollo topografico. la stessa cosa viene più o meno dall'altra parte quasi uguale tralasciamo questo montagnozzo di 1000 metri che sono poi gli appalacchi che sono molto importanti ma non hanno delle cime impressionanti prendiamola questa come una piana ma da qui a qui ancora meno 5000 metri in 500 km da qui a qui ho una situazione che è completamente diversa nel senso che tralasciamo queste impennate tralasciamo per un attimo questo in pratica ho una piana e poi da un certo momento in poi inizia una lenta 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 risalita fino a questa cima che è meno 2000 metri rispetto alla piana che era meno 5 sono quindi 3000 metri non è poco ci mancherebbe diciamo una media delle Alpi però questo avviene in 1500 km quindi in tutta l'Italia come se avessimo le Alpi non qui di fronte a Milano in pochi chilometri ma partendo dalla Calabria lentamente 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 si arriva a Torino e a quel punto sono a 3000 metri e lo stesso a scendere quindi finirei come dire verso Parigi va bene quindi come dimensioni dell'oggetto quindi è chiaro che dal punto di vista diciamo della percezione dell'intensità topografica sono due cose diverse ma magari è un caso proviamo a muoverci scendiamo in sud atlantico proviamo a tracciare un altro profilo anzi l'altro profilo lo traccio anche qui da continente a continente e come vedete avviene sostanzialmente la stessa cosa anzi altro che sostanzialmente la stessa cosa piana a zero piana un po' più altra qui siamo a mille metri ma non cambia molto quindi abbiamo una spalla un po' più alta dell'Africa una e due pareti verticali che in poche centinaia di chilometri ci portano a meno 3000 meno 4000 metri e poi una lento scendere una piana con questi seghettati ma tralasciamoli per adesso e poi un lento risalire con un gobbone che arriva fino a meno 2000 quindi vuol dire ancora 3000 metri di dislivello per poi ritornare lentamente a quote più più basse e poi bam ritorna su beh interessante questa continuità ho apposta tralasciato questi oggetti che evidentemente sono degli oggetti come dire che escono un pochettino dallo schema ma se anche volessi inserire questi oggetti nello schema mi metto li faccio passare apposto lì in mezzo eccoci qua è vero ho questo oggetto e questo oggetto che sono intensamente come dire diversi però se immaginassi di eliminare questo e questo il resto del profilo topografico è identico una spalla destra africana un po' più alta rispetto agli zero invece la parte sudamericana a zero una parete verticale che scende a meno 3.000 a meno 4.000 metri e poi una piana disturbata da questi due grossi oggetti non da poco perché questi sono 1000 km e più 1500 km quindi non sono esattamente degli oggettini di poco conto però al netto di questi due oggetti la geometria generale topografica rimane la stessa bene anzi ultimo giro farei un giro dalle nostre parti per capire come va la questione qui e qui già lo vediamo che la questione è un po' più complessa se provo a fare un profilo non so nord ove sud est così lungo l'Italia ecco quello che trovo vado da 1000 diciamo 0 a 1700 km una come dire gentile rispetto a quello che abbiamo visto prima variazione di topografia in 200 km le Alpi poi una grande pianura e dei rilievi che mediamente arrivano fino ai 2000 metri poi scendono fino a qui fino a qui per poi osservare qualcosa invece di un pochettino più cruento dal punto di vista topografico perché passo da 0 a meno 3000 cioè è più di quanto vedo in positivo sulle Alpi e di più dal punto di vista del scarto topografico e in particolare in questa porzione il tutto avviene in modo molto netto molto secco allora questo vi dicevo che sono quattro gli oggetti che guarderemo uno è la topografia abbiamo dato un'occhiata questo è il modo più basico per guardare la topografia con Geoma papà ecco Michele scusa ti interrompo già così perché ci sono già un po' di domande io non le vedo scusatemi infatti infatti per quello ti avevo chiesto vabbè comunque giusto per rendere la cosa un po' più leggera appunto la prima curiosità abbiamo visto questi grafici bellissimi e appunto anche l'altra volta si suggeriva di utilizzare si possono scaricare i dati come txt diciamo in questo caso sarebbe un x y giusto per intenderci e chiedevano appunto quale tipo di programma semplice di semplice excel secondo me potrebbe essere diciamo non è che lo adoro ovviamente io non lo amo però diciamo a livello di scuola sicuramente facciamo una prova comunque anche come soft skill no sicuramente gli studenti potrebbero acquisire la capacità di usare excel che vabbè insomma che non è appunto il massimo ma non è male cioè nel senso non è male non è male il fatto di utilizzare questi dati ad esempio se io faccio questo profilo guardate giusto per intendere se vedete qui meno 4000 zero insomma la solita solito salto topografico ormai l'abbiamo visto ai bordi di questi oceani ci sono questi salti topografici salvo come ASCII in questo caso questo ASCII e questo XY o XYZ nel caso che abbiamo visto prima butto qui se ci riesco ecco qua profilo uno il nome glielo do io qua io lo chiamo txt proprio come testo perché so già che è un ASCII quindi un file di testo lo salvo oh certo yes ce ne avevo già un altro identico benissimo allora vado a vedere cos'è questo oggetto lo trovo qui profilo se lo apro con un normalissimo file editor di testi ma più semplice di Word giusto per vedere cos'è è un elenco di numeri allora il primo ingrandisco un po' così lo possiamo vedere tutti la prima riga mi dà un'intestazione di qual è il database quella roba che avevamo visto prima quello che io ho caricato poi mi dice che è costituito da uno due tre quattro colonne di dati quattro gruppi di dati longitudine latitudine distanza in chilometri e l'elevazione in metri benissimo quindi sono delle colonne fatte in questo modo allora questo oggetto è facilmente apribile anche da Excel direi nel senso che tutti noi non amiamo particolarmente Excel perché è molto utile molto però poi appena si iniziano a fare un po' di cose un po' più complesse lui tende a metterci in difficoltà però va benissimo allora se io con Excel apro questo file lo apro in modo semplice cioè gli dico apri vado in dove l'avevo lasciato profilo 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 ppp profilo txt lui si rende conto che è un file di testo non un file di Excel me lo mostra e mi dice ma tu come vuoi gestirlo allora io vado avanti gli dico senti dimmi tu come lo gestiresti ma io lo dividerei in tab in tabelle in tabulazioni e lui già mi separa le quattro colonne e già si rende conto che la prima riga poco importa allora gli dico va bene importalo così l'ha importato ha messo le quattro tabelle questa prima riga io posso tranquillamente eliminarla tanto non mi serve e queste quattro sono le quattro colonne che abbiamo visto prima a questo punto io potrei dirgli di usare distanza elevazione per inserire no per adesso qui eccolo qua per fare ad esempio un grafico di questo genere eccolo qua vedete che riproduco poi se gli dico di collegare i punti verrebbe un po' più più bellino ma adesso quello che ci interessa ora è questo vedete che con Excel è possibile riprodurre sostanzialmente lo stesso grafico sì poi c'è tutta la possibilità appunto diciamo di migliorare lo stile grafico assolutamente non so l'asse delle x che interseca mille invece che lo zero per dire assolutamente quindi vabbè insomma lì basta giocare sulle proprietà di Excel però diciamo il concetto che questi sono dei dati che noi possiamo elaborare immediatamente noi o gli studenti o chiunque altro non c'è nessun blocco senti poi già che ci siamo che ti ho interrotto così ti interrompo te lo dico perché potrebbe comunque servire anche per il resto della della tua chiacchierata chiedono appunto come possa essere sfruttato GeoMapUp per l'analisi geologica dell'Italia già hai fatto vedere appunto un profilo topografico diciamo longitudinale lungo la lunghezza diciamo dell'Italia ovviamente questo è un profilo topografico che nasconde in sé dei processi geologici certamente esattamente per cui insomma tieni in mente che chiaramente c'è questo interesse assolutamente ci ritornerò immagino che anche se la topografia si andasse a vedere nel Martirreno Martirreno meridionale sicuramente vedremo qualcosa di interessante ma dai facciamolo subito partiamo dalla Corsica e andiamo giù in Calabria esatto fino a qua e voilà nel suo piccolo nel senso che come dire è importante sottolineare in questo caso che la zona l'area è piccola rispetto a quella che abbiamo visto prima però nel suo piccolo lui passa da mille metri a meno 3.500 per poi tornare a qualcosa di più di mille metri poi dipende dove andiamo sono anche quote più alte se scegliamo addirittura un profilo fatto così ancora più chiara è questa geometria topografica ho ancora due diciamo zone più elevate che peraltro hanno morfologie un po' diverse l'una molto più piatta e l'altra molto più aguzza e molto scoscesa in tutti e due i lati ma insomma la Calabria la conosciamo tutti la Calabria è una roba pazzesca insomma anche difficile da girare molto bella e al di sotto c'è tra queste due zone una piana che arriva a meno 3.500 metri quasi meno 4.000 metri quindi molto simile a quello che abbiamo visto per l'oceano atlantico ad esempio con questi cucuzzoli che vanno e vengono di cui magari sicuramente parleremo dopo va bene posso continuare su altri dati sì sì certo poi appunto poi se ci verranno in mente ci torniamo appunto sull'aspetto della Geomap Up e Geologia d'Italia insomma diciamo siamo d'accordo il messaggio è arrivato allora secondo gruppo di dati terremoti allora Geomap Up ci permette di abbiamo visto abbiamo caricato la topografia ci sono tanti altri database topografici uno potrebbe mettersi lì a come dire passare le giornate a confrontarli ma non lo faremo secondo dato possiamo andare su Geofisica Terremoti Posizione dei terremoti vedete che ci sono anche altri campi dove potrei entrare e cercare dei dati ma vado dritto a questo perché in questo momento voglio mostrarvi gli strumenti poi i dati dentro sono davvero un'infinità globale e qui abbiamo questa possibilità di selezione dal basso verso l'altro i primi quattro ci dicono magnitudo maggiore o uguale a 4,5 5,5 6 per un intervallo di tempo che dal 1960 al 2020 quindi 60 anni tutti l'unica differenza è che sono filtrati in funzione della magnitudo qui ne abbiamo solo quelli superiori a 4,5 solo quelli quindi figuratevi quanti vengono tolti minori a 4,5 sulla maggior parte dei terremoti sulla terra fino a maggiore di 6 oppure gli altri 4 tutti i terremoti quindi anche quelli sotto una certa magnitudo ma filtrati per un intervallo di tempo molto più ristretto un'ora cioè l'ultima ora l'ultimo giorno l'ultima settimana l'ultimo mese allora per utilità diciamo per oggi per utilità espressiva nell'introdurre allo strumento tendo a preferire questi perché perché mostrano un intervallo di tempo ampio ma non sono così tanti in quanto essendo filtrati su una magnitudo maggiore di 6 tolgono tanti 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 terremoti sulla terra ripeto la maggior parte però se guardiamo l'intera e più volte perché questa è l'Australia questa è l'Australia quindi è ripetuta due volte quindi sotto l'immagine è sempre la stessa la topografia quantitativa quindi potremmo provare a fare un profilone attenzione qua fa degli archi per cui un profilone di questo genere quindi vuol dire che è ancora lei lì sotto ma l'altra cosa che è stata rappresentata sono questi punti non solo rappresenta dei punti ma ci mostra una tabella qua sotto una tabella che rappresenta per ogni punto una serie di informazioni il giorno 2020 05 31 e il tempo l'ora in cui è avvenuto è stato registrato il terremoto la latitudine la longitudine la magnitudo la profondità a cui questo è stato diciamo si è prodotto è stato ricostruito perché poi c'è tutta una diciamo una procedura complessa che ci ricostruisce la profondità la posizione orizzontale cioè x y sulla superficie terrestre e un link rispetto ad altre informazioni di approfondimento allora se io clicco su ognuna di queste vedete che qui c'è un puntino rosso qui sarà in Cile o da qualche parte se clicco su questo il puntino rosso si sposta di qua se clicco su questo il puntino rosso è qui quindi mi localizza in rosso l'oggetto lo posso mettere in ordine per magnitudo insomma posso organizzare questi dati o posso anche cliccare appunto su questi su questo link cliccando su questo link si apre dovrebbe essersi aperta no non si è aperta ci ritrovo a cliccare eccolo qua si è aperta un collegamento a questo database che è il database diciamo internazionale USGS il servizio geologico americano che tiene diciamo sotto controllo o meglio che raccoglie tutte le stazioni e tutte le informazioni riguardo a tutti i terremoti non è l'unica rete ma vedete ci sono una serie di informazioni informazioni che sono mappe interattive la magnitudo la profondità la posizione cioè la posizione la profondità le coordinate l'ora le stesse informazioni che abbiamo visto prima ma anche tutta una serie di altre informazioni più dettagliate più specifiche anche vedete le perdite economiche le mappe dell'intensità il momento del tensore del momento insomma tutta una serie di informazioni scientifiche ok non sono sol anzi sono principalmente scientifiche poi hanno anche delle gli USGS le presenta anche per il pubblico diciamo meno meno esperto però questo database è il database diciamo di riferimento scientifico per tutta per tutto il mondo dal punto di vista di queste informazioni e è collegato direttamente su GeomapUp quindi proviamo a tornare su GeomapUp io cambio cambio oggetto visto che questi sono degli ultimi 60 anni evidentemente posso andare indietro e vedere terremoti degli anni 90 terremoti degli anni 70 va bene potrò trovare il mio compleanno e va bene andare alle tonga e vedere ancora sulla pagina degli USGS la tavola diciamo la pagina dedicata a quel terremoto e tutti i dati che sono stati ricavati come vedete questo terremoto che è più più vecchio del 73 le informazioni sono minori rispetto a quello che abbiamo visto prima del 2020 questo perché diciamo la rete di raccolta era completamente diversa quindi la successiva elaborazione era più povera per questo vale ancora di più più andiamo indietro nel tempo in dati storici seguendo la domanda domanda che infatti è intrigante che la domanda è possibile visionare diciamo selezionare un livello che permetta di vedere la suddivisione in placche e quindi immagino che appunto sovrapponendolo si scoprano delle cose interessanti assolutamente sì se andiamo in geologia o forse l'ho messo in geofisica sì lithospheric plates plate boundaries lui carica eccole qua lui carica un database di punti che anche qui ha una tabella molto ricca che si diciamo collega a un database esterno dove sono definite ad esempio vedete qui plate boundaries id af an o anaf s o an queste sono le due placche messe a contatto va bene indiana e s o sudafrica non so come l'han chiamata qui questa è quella indiana questa non lo so però ecco che la vedete e questa è esattamente una delle possibilità perché non è l'unica vedete che qui ho questi oggetti e giustamente chi ha suggerito di dare un occhio a questa cosa pensava ma se io prendo i terremoti supponiamo di colorarli in funzione della magnitudo eccoli qui e lascio in grigio coi puntini la distinzione tra le placche magari magari e infatti avviene in alcuni casi non sempre vedo una discreta se non incredibile sovrapposizione perché se noi andiamo qui oppure andiamo qui oppure qui vediamo che anche soltanto dal punto di vista della localizzazione dei terremoti e dei margini di placca questi due si sovrappongono allora faccio una contro domanda perché si sovrappongono o meglio come si arriva a definire questo bordo di placca che è un po' in qualche modo il piacere di guardare i dati nel senso non di leggere su un libro avere già una carta che ci mette i limiti di placca ma capire noi come disegnare i limiti di placca e magari cambiarli anche ci sono altre domande no per ora no lei subito soddisfatti basta chiedere basta chiedere mi sarà dato allora aggiungo subito il terzo livello di dati che sono i vulcani allora in geomap posso sempre qui dentro selezionare geology o geophysics ci porta diciamo su strade diverse allo stesso luogo geology vulcani qui ho una serie di database io uso lo smithsonian in questo caso e vedrete subito perché si collega al database e li rappresenta allora a questo punto inizia ad avere un po' troppi punti là sotto va bene posso colorarlo in modo diverso ma un layer alla volta oppure posso dirgli guarda questo layer non mostrarlo adesso lui ha i vulcani posso dire di non mostrare il plate boundary e non mostrare neanche i i terremoti torno alli smithsonian così vedo soltanto vedo loro ma mi ricordo erano esattamente nello stesso posto quindi potrei tornare sul terremoti e dovrebbero eccoli qua vederli rappresentati quantomeno una parte dei terremoti che abbiamo rappresentati qua sotto si localizzano in modo come si può dire tremendamente chiaro nello stesso luogo dove si localizzano i terremoti questa cosa è un primo elemento di una di un certo interesse non solo torniamo a utilizzare lo strumento profilo lungo una traccia di questo genere non solo cosa vedo questa è la parte più a sud e questa questa è la parte più a nord mi trovo a osservare una piana a meno cinquemila metri che di colpo tra millequattrocento e milleseicento chilometri quindi duecento chilometri cioè il tempo di andare con duecento dove andiamo al più occidente Val Susa va bene in duecento chilometri passo da meno cinquemila a zero con un oggetto che è notevolmente verticale quindi e guardate dove si localizzano i terremoti questi e i vulcani questi tra qui e qui tra qui e qui 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 già sono nella piana oceanica e di terremoti e vulcani non se ne vedono e neanche in questa strana questa strana inflessione stranissima inflessione stranissima ma prima di andare avanti faccio una piccola magia la mi avvicino leggermente in questa zona per essere ancora più visibile e dei terremoti io i terremoti li ho rappresentati con colori diversi in funzione della magnitudo perché avevamo detto prima è possibile esportare i dati e lavorarci con excel ad esempio ma lui ha un piccolo excel diciamo qua dentro una piccola capacità di rappresentazione grafica dove su x y non sempre in questo caso in pianta posso cambiare colore agli oggetti in funzione delle proprietà allora non uso più la magnitudo ma uso la profondità quindi vedete che avete blu valori di profondità dei terremoti da 0 a 40 km 50 km poi si può arrivare fino a 100 200 300 e 400 km passando da verde questo arancione questi bianco questi poi qualcosina la ma davvero poca roba mi allontano leggermente così per ampliare un po' la nostra statistica vado dalla nord america al nord est dell'asia va bene lungo lungo la leutine gli applico la stessa regola cromatica quindi questa blu intenso 0 20 70 km poi via via verde più chiaro giallo rosso e bianco terremoti sempre più profondi avevamo visti prima qui e li vediamo ancora meglio di qui cosa significa che tendenzialmente qui molto vicino a dove si localizzano anche i vulcani tendo ad avere in modo progressivo dei terremoti via via meno profondi e poi sempre più profondi se io mi metto qui li abbiamo visti ancora torniamo qua li vedo bene vedete blu un pochettino anche qui verdi arancioni bianchi questi qua vi ricordo sono 300 km di profondità in quanto di distanza lo vediamo subito ci basta fare il profilo da qui a qui tra 190 e mettiamoci qui e 500 massimo quindi in 300 km andiamo a 300 km di profondità di terremoti e questo avviene anche con distanze molto ridotte guardate qui scusate sbaglio io a fare il profilo qua ecco qui passo da meno allora da vediamo dove sono qui 100 km a 250 quindi in 150 km passo dai terremoti tutti localizzati e poco profondi questi a terremoti a 200 300 km di profondità questa cosa è è assolutamente incredibile nel senso che perché localizzarsi qui uno sia i terremoti che i vulcani ma perché passare da 0 di profondità o 50 km di profondità a 700 km di profondità qui in 300 km per poi tutto il resto diciamo delle zone che gli stanno attorno in pratica non avere praticamente più terremoti tutta questa zona tutta questa zona tutta questa zona oppure se vado qui guardate che bello in Sud America ho esattamente queste tre bande blu verde arancione e bianco quindi vuol dire che vado da 0 a 700 km dovete immaginarvelo cioè da qui a qui ho una tendenza ai terremoti a andare giù come delle lame quasi in verticale poi scompaiono ma scompaiono non ce ne sono più 0 lo stesso avviene qui una cosa che si può provare a fare non è come dire il top in Geoma ma qualcosa si può provare a fare è dire eccoci qua qua si vede benissimo questa è bellissima blu verde i grigi sono i vulcani verde arancione e bianco quindi c'è proprio una come dire una gradazione di profondità quindi noi dobbiamo immaginarci qui di essere in superficie e qui di essere in profondità ma non poco 700 km io posso provare a fare un grafico dei terremoti in cui metto in ascisse la longitudine e in ordinate la profondità credo sia giusto sì esatto è al contrario nel senso che qui si è più profondi qui si è meno profondi quindi la profondità va da 0 a 700 km e vedete che questi sono tutti i dati di quest'area rappresentati tutti assieme quindi probabilmente noi stiamo guardando questi dati che sono questi questi qua che sono questi e questi che sono questi qua comunque io vedo chiaramente questi piani queste linee che uniscono queste nuvole di terremoti da 0 50 km di profondità 100 200 300 400 poi un salto di strano assenza di terremoti e poi ancora 500 600 km sono tanti di altri terremoti tanti terremoti tutti voi già sapete la risposta benissimo io ci tengo però a sottolineare che questi tre aspetti terremoti vulcani e ancora topografia perché guardiamo bene ancora la topografia qui una piana di 1000 km piana cioè tra 0 e 100 km 100 km no 100 metri scusate 100 200 300 poca roba tralasciamo i piccoli spuntoni tralasciamo questo oggetto strano l'abbiamo già visto prima da meno 6.000 a più 5.000 sono 11.000 in 400 km una roba pazzesca e se guardo ancora una volta dove si localizzano terremoti guardate da qui da questo punto da questo inizio a vedere i terremoti blu da qui iniziano già a scomparire i blu sono azzurrini da qui sono verdi dovete immaginare che io sto puntando verso l'altro in quota ma i terremoti stanno andando giù quindi è una roba che non capisco più da una parte ho qualche cosa che produce una topografia che sale dall'altra ho un terremoto che scende quindi però è tutto lì assolutamente sovrapposti e in terzo ho anche i vulcani vulcani vuol dire non tanto il vulcano che esce ma il magma e noi lo sappiamo il magma c'è il vulcano tutti i disegni ci mostrano il magma che dalle profondità della terra esagerandolo risale se riesce poi produce il vulcano quindi poi abbiamo questi oggetti quando sono qui qui sono a 700 chilometri di profondità va bene in 700 chilometri ancora 700 chilometri dimmi Michele dimmi a parte ci sono un po' di domande perché appunto se è che dobbiamo cambiare un attimo margine però vabbè volevo farti cioè io una domanda nel senso uno spunto perché appunto pensando alle aleutine ma potrebbe anche essere diciamo questa zona comunque condivido un attimo io poi dopo ricondividi tu diciamo che adesso non so se vedete sì arrivato una roba così qui siamo alle aleutine cioè sostanzialmente quello che noi questo qui ho un video chiaramente quello che noi abbiamo visto con Geomap è esattamente questo cioè comunque una distribuzione dei terremoti che si approfondiscono spostandoci in questo caso verso nord qui sono rappresentati i terremoti con magnitudo maggiore di 4 esattamente più o meno quello che abbiamo visto quello che è interessante per legare tutte e tre i livelli sarebbe ad esempio lungo l'arco delle aleutine verificare questa distanza cioè la distanza tra dove superficialmente noi troviamo i terremoti e la zona in cui comunque appunto diciamo prima che questa è la placca in subduzione non è che dobbiamo nascondere i termini tecnici la placca in subduzione siamo in una zona di subduzione chiaramente nell'ambito della teoria della tetonica delle placche sarebbe interessante vedere questa distanza che ci dà un po' un'indicazione perché il fatto di avere qui un vulcano dipende dalla perturbazione che la tetonica delle placche genera all'interno della terra in modo tale da favorire la genesi di un magma perché per me vulcano è magma quindi ci può essere un vulcano solo se parte del mantello terrestre che di norma è solido vero può fondere quindi si creano delle condizioni tali per cui qua si formi del magma quindi se il vulcano è qui o se il vulcano è spostato rispetto a questo questo andamento chiaramente deve poter diciamo ripetere o comunque sovrapporsi anche alla distribuzione dei terremoti che come sappiamo mi delineano lo slab la placca in subduzione quindi permettono di si delineare la placca in subduzione quindi ti chiedevo questa cosa qua se ti va poi interrompo la condivisione e poi dopo passiamo alle domande vogliono cambiare un attimino l'ambiente quindi da subduzione andare verso i margini più appunto vengono chiamati conservativi quali dati sono più rappresentativi per un margine passivo sempre lì nelle le utine comunque ci sono anche dei fenomeni di accrezione di terreno proprio sulla al margine continentale quindi eventualmente si potrebbe anche vedere qua e l'altra domanda così poi ti rilascio la parola l'altra domanda invece riguarda sempre la convergenza quindi i margini convergenti in cui però c'è uno scontro collisionale allora in quel caso potremmo andare nel tuo luogo diciamo di ricerca preferito che sono le Alpi così ti suggerivo certo allora torno sulle le utine per dare come dire neanche tanto risposta ma proprio misura perché ripeto il bello di questo strumento è che noi ci facciamo le domande e qui andiamo a prendere i dati per cui se io guardo allora abbiamo sempre diciamo colorati i terremoti e in grigio i vulcani e come dire abbiamo visto che i terremoti tendono a quelli blu essere i primi e poi via via quelli più profondi quindi io qui posso tranquillamente misurare tra diciamo qui dove vedo un po' di blu più scuro della topografia però posso misurare questo tratto da dove iniziano i terremoti poco profondi fino a dove ho il primo vulcano o il nastro di vulcani e vedo che sono tra 0 e 200 km cioè 200 km se invece vado qui e mi metto qui ad esempio dove ho i primi già lo vedo graficamente ma vado da 0 a 300 350 quindi ho quello che diceva Patrizia prima una possibile variazione di questa posizione allora potrei mettermi diciamo tra questi terremoti in questa posizione perché mi metto in questa posizione per misurare questo oggetto 450 km perché voglio sottolineare un aspetto che ho già sottolineato ma che poi mi servirà di collegamento a una delle domande che avete fatto è che regolarmente se faccio il profilo topografico in queste zone ho questa fossa o scusate questa fossa che non è una fossarella così da niente cioè se la piana è a 5000 metri questa va a 7000 se la piana è 5000 questa va a 6200 se facciamo i casi più eclatanti perché poi ci piacciono anche le cose giustamente un po' più come si può dire esaltanti guardate qui blu arancione giallo bianco questo è spettacolare mettiamoci anche la topografia meno 5000 meno 10000 in niente in niente perché questo è 500 550 600 in 50 km cioè immaginatevi di essere qui a Milano andare a Bergamo e nel tempo che andate a Bergamo perdete 5000 metri di dislivello 5000 metri di dislivello poi vabbè ce l'ho fatta sono arrivato a Bergamo dovete tornare indietro tra 600 e 700 non arrivate neanche a Torino e ne ripigliate quanti? 10.000 e cioè topograficamente è importante bene possiamo anche rispondere anche qui alla domanda qui sono i vulcani qui sono i terremoti questi sono i 200 km direi che quasi 200 km è il valore minimo forse qui sono un po' più qua un po' meno un po' più vicini ma no neanche dal 200 ai 400 direi sì quello che è interessante far notare è che nell'ambito lì appunto sempre delle aleutine questa variazione mette in evidenza come una zona stavamo parlando di una zona convergente una zona di subduzione quindi nell'ambito dello stesso se volete ambiente subduttivo in realtà c'è una variazione per cui sembrerebbe che nella zona diciamo più a ovest la placca in subduzione è più inclinata i terremoti sono più profondi e i vulcani sono più ravvicinati rispetto alla fossa mentre in questa zona più a est nella zona più a est si ha diciamo una subduzione più meno inclinata quindi più superficiale e chiaramente questa distinzione poi si collega con la geologia a est abbiamo una placca litosferica oceanica che subduce sotto una placca continentale e a ovest abbiamo invece appunto una placca oceanica che subduce sotto una placca oceanica questo lo si può notare anche dal punto di vista dei prodotti proprio geologici quello che cercavo esatto i materiali chiaramente la composizione delle rocce che eruttano che vengono formate che vanno a costituire questi vulcani sono diversi e anche la modalità eruttiva del vulcano probabilmente è diversa ok verissimo infatti qui nel database avete anche questa informazione vedete qui c'è un tipo di roccia dominante e c'è anche la tipologia di attività ok media ovviamente non è e anche la geometria del corpo non bisogna essere eccessivamente diciamo rigida questo anche perché è un database sintetico però questo database ci collega anche lui ce la farà ad andare se dovrebbe farcela no non ce l'ha fatto anche lui ha un link eccolo qua si collega al pagina dello smithsonian che ha tutta una serie di informazioni di vario livello più o meno come dire approfondito da un punto di vista scientifico sempre scientifico sempre oggettivo ma con variabile approfondimento di grandissimo interesse sia per un come dire un interesse personale perché trovate immagini trovate link esterni a video approfondimenti ma anche dal punto di vista diciamo didattico ad esempio perché far partire da geoma per entrare in questi database e far approfondire è un gran bel lavoro un gran bel lavoro anche per vedere che cosa vive lì attorno ok cioè la civiltà che si è più o meno sviluppata nelle vicinanze ad esempio delle zone vulcaniche guarda se riesci a trovare Nova Rupta sono in ordine alfabetico potremmo chiederglielo forse sì noi poi ci facciamo prendere da Nova Rupta eccola qua Nova Rupta eccolo qua eccolo qua questo è interessante perché questo qui è un vulcano è una zona larga esatto e a nord di Nova Rupta tra l'altro c'è una valle che si chiama la valle dei diecimila fumi perché c'è ancora attività diciamo vulcanica fumarolica molto intensa e ci sono tantissime bocche diciamo tantissime fumarole e la valle è proprio diciamo sovrastata da questi fumi la valle dei mille fumi e questo questo vulcano qui Nova Rupta non so se riesci a collegarti con lo Smithsonian nel primi del novecento nel novecento dodici ha diciamo ha avuto una delle eruzioni più più intense diciamo che se il Vesuvio tutti voi conoscete il Vesuvio no? perché comunque si studia anche in storia importantissimo 79 no? ha distrutto Pompei ha eruttato una qua io ho i dati in miglia cubiche però si possono fare facilmente poi però è il rapporto una un miglio cubico di materiale il Vesuvio Nova Rupta tre volte tanto quindi immaginate che tipo di eruzione questo nel mila novecento dodici nel mila novecento dodici esattamente questo vulcanello qua esatto questo vulcanello qua ha eruttato che sono diciamo appunto tre miglia cubi che sono circa dodici chilometri cubi eh di materiale tipo pomice eh tutti voi conosciete la pomice ci sono delle immagini d'epoca bellissime che mostrano queste persone eh con la sembra neve al ginocchio invece in realtà è pomice al ginocchio un po' quello che vedete appunto adesso con l'Etna però sono questi lapilli color scuro lì essendo la pomice chiara una roccia chiara perché è molto porosa è un vetro vulcanico eh chiaramente dà l'effetto neve no quindi appunto sicuramente da da si si possono fare tantissimi collegamenti no poi c'è la valle appunto dei dei diecimila fumi poco più a nord e anche ci sono delle zone in cui l'intensa attività vulcanica ha creato delle caldere quindi lì si possono segno come caldere esatto infatti è molto vicino infatti in questa eruzione probabilmente ha un po' fatto collassare l'edificio vulcanico a dare una caldera tra l'altro questo strumento secondo me può anche essere combinato con forse Google Earth no quindi per vedere bene le forme è molto interessante appunto anche appunto didatticamente far fare una niente scusate io poi dopo noi ci facciamo prendere eh sì a noi ci piace questa no c'è un collegamento che volevo fare per aggiungere il quarto dato il famoso quarto dato mancante che Patrizia aveva fatto rispetto al diciamo al riferimento che qui fosse una subduzione di crosta oceanica sotto crosta continentale e qui oceanica sotto oceanica come facciamo a dirlo va bene lo sappiamo abbiamo studiato siamo bravi però io voglio saperlo diciamo non tanto da me voglio essere in grado di utilizzare sempre uno strumento come questo per vedere questo aspetto allora geomap up ancora in geology direi sì ma in realtà è già caricato ma lo stesso o anche in geophysics sempre in litosfera diciamo placche litosferiche abbiamo la possibilità di selezionare una serie di informazioni che riguardano in questo caso io uso la crustal age cioè l'età della crosta oceanica del fondo oceanico questo ancora va a caricare l'oggetto ed è caricato così adesso ve lo mostro un po' più da lontano perché è un'immagine che tutti noi conosciamo abbiamo già visto tante volte poi torno lì però è un'immagine talmente come si può dire chiara che è utile averla sotto cioè questi colori blu giallo rosso bianco indicano vedete che se io mi muovo i famosi numerini là sopra ci sono ancora sono le coordinate c'è lo zoom ma di mezzo c'è un nuovo numero che è miglio m y milioni di anni quindi qui dove sono in questo momento sono 41 milioni di anni se vado qui 3 milioni di anni se vado qui 167 milioni di anni poi posso ragionare su tutta una serie di robe ma torniamo a noi alle leutine quindi io mi muovo qui e vedete che quel numero è scomparso quei colori sono scomparsi perché qui non c'è crosto oceanica se invece vado qui ritorna 67 milioni di anni se vado qui 55 milioni di anni quindi come veniva detto prima qui ho subduzione di materiale oceanico sotto materiale oceanico come faccio a dire che è sotto uso lo stesso approccio che ho avuto prima con la rappresentazione dei terremoti cioè se prendo ancora quelli maggiori di 6 gli faccio un grafico in cui non più la longitudine ma la latitudine rispetto alla profondità ecco che vedo rappresentati i terremoti da poco profondi via via più profondi e vedo che la linea di interpolazione va da sud verso nord quindi se questo è il piano di subduzione è un piano che immerge verso nord quindi ho questa crosta oceanica che va sotto che è subdotta al di sotto di quest'altra crosta oceanica quindi qui invece ho crosta oceanica che è subdotta al di sotto di quest'altra l'altra cosa interessante di questa immagine è che l'età della crosta oceanica può cambiare nel senso dell'età che viene subdotta qui subduco materiale di 105 milioni di anni cretaceo qua invece sto subducendo materiale di 28 milioni di anni oligocenico qui intermedio va bene oligocenico perché la subduzione prende e porta giù non si preoccupa ma l'altra cosa interessante che io posso fare a questo punto avendo un raster con dei valori posso fare un profilo posso fare un profilo che a questo punto ha un doppio profilo è un profilo di elevazione chilometri metri o chilometri età anni allora a me questo piace ancora di più da un punto di vista didattico è eccezionale perché inizia già era iniziato ma va ancora più avanti un aspetto diciamo interdisciplinare che può essere steso tantissimo ma anche solo di collegamenti concettuali se io faccio un bel profilo un po' ampio da qui a qui supponiamo anzi da qui da qui a qui e quindi ho la topografia intanto questo qua si è raggiornato faccio notare la topografia meno 5.000 gobbone a meno 3.000 e poi torna giù questo va da 100 milioni di anni 120 milioni di anni a 0 milioni di anni cioè sta nascendo adesso e da quest'altra parte quindi qui vado da 100 milioni di anni gradino queste sono l'età gli anni milioni di anni via 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 fino a 0 qui dove sta nascendo se è 0 nasce nuova roccia e qui invece invecchia cosa abbiamo? un grafico che è spazio fatto tempo velocità che velocità è? è una velocità di espansione di formazione di allontanamento quindi l'inclinazione mi dà la velocità cosa noto? che questa porzione e questa porzione diciamo sono inclinati in modo abbastanza simile in realtà questo è un po' meno questo è un po' di più ma soprattutto questa porzione qui a un certo punto ha un salto di colpo il rapporto spazio tempo è molto più inclinato per poi addirittura mettersi con una forma che è strana opposta quindi io qui vedo dei grafici di velocità di velocità di formazione di rocce qui in mezzo agli oceani se vado torno al famoso profilo c'è famoso si famoso profilo nord america africa guardate cosa ottengo questo è il profilo topografico vi ricordate spianata crollo gobbone con pungiglione e altra parete guardate tempo spazio destra sinistra destra est ovest praticamente identico simmetrico stessa velocità che cambia un pochettino di qua nel tempo cioè tra 150 e 120 milioni di anni un piccolo cambio di velocità che poi si rimette costante chissà cosa è successo torno a una domanda che avete fatto giustamente che differenza c'è tra i bordi diciamo i margini distruttivi i margini con subduzione dedotta da terremoti pulcani e crosto oceanica che scompare e quelli invece in cui chiamati passivi dove prima di tutto la grande differenza è che non ho vulcani e non ho terremoti ma non solo se io traccio un profilo topografico quindi da da qui dal gobbone che è la dorsale oceanica all'altra dorsale oceanica tra una dorsale e l'altra questo è il profilo tralasciamo l'età che diciamo ci anzi la tolgo momentaneamente perché mi infastidisce un momentino quindi rifaccio il profilo eccoci qua guardate che profilo prima cosa piana muraglione gran montagna piana muraglione altra piana se però vado in dettaglio scusate mi è scappato via i profili cambiano in funzione a che zoom sono allora se però vado in dettaglio col profilo da qui a qui cosa vedo vedo che qui nella porzione diciamo andina si sviluppa questa fossa mentre tutte le volte che sono in quest'altra porzione dove non ho terremoti non ho vulcani e attenzione è molto probabile che non abbia neanche delle catene montuose come le vediamo noi cioè oltre alla piana anche una catena che si innalza gli manca questa fossa questa fossa non c'è perché questa fossa non c'è perché questa fossa si produce proprio per il fatto che qui ho una zona in subduzione o del materiale che sta scendendo una placca che viene subdotta che trascina che inarca che piega e quindi produce una depressione una topografia negativa ancora più accentuata cosa che non accade in queste porzioni non accade mai e potete muovere lungo tutti questi profili e vi rendete conto che questa cosa non accade quindi direi che alla domanda quali dati sono più rappresentativi per studiare questo tipo di margini chiaramente i dati più rappresentativi sono le assenze la mancanza di alcuni dati cioè la mancanza di vulcani la mancanza di sismicità di terremoti la mancanza di una topografia tipo fossa assolutamente è assolutamente più di un dato cioè o meglio in alcuni casi sono a volte sono anche solo uno come dire è talmente intenso che ci dà risposta ma la maggior parte dei casi dobbiamo unirne più di uno e in questi casi la cosa interessante appunto è che questa assenza questa mancanza si riproduce lungo 15.000 km cioè è sempre così tranne alcuni oggetti particolari come questo come questo e come un inizio qui queste sono tre zone in cui nell'Atlantico sta iniziando una subduzione quindi l'Atlantico sta iniziando a cambiare il suo comportamento però come dire rispetto al totale sono davvero poco cosa facciamo ci muoviamo verso le nostre zone andiamo andiamo sulle Alpi dai margini convergenti di placche allora convergenti esatto allora questo è un bel problema nel senso che aspettate volevo centrare un po' più l'oggetto che cosa come dire se guardiamo tutta la distribuzione di terremoti e vulcani sulla zona che abbiamo osservato fino adesso abbiamo osservato spesso una forte allineamento una forte sovrapposizione di terremoti e vulcani se andiamo in queste aree che partono diciamo già dalla Spagna dei Pirenei adesso qui i dati sono pochi perché li abbiamo un po' ridotti ma vedete che abbiamo una fascia molto ampia che dalle Alpi va fino all'Himalaya una fascia in cui i terremoti sono molto diffusi molto ampio l'intervallo di diciamo la distanza sono mille tre mila quindi duemila chilometri ancora zero mille mille chilometri bene già vediamo qualcosa l'avete già visto tutti voi che tipo di topografia abbiamo allora andiamo da noi mettiamoci qui beh già quello che vediamo è che rispetto al resto del pianeta sì ci sono terremoti sì ci sono vulcani però poca roba rispetto al filtro che gli abbiamo messo rispetto alla distribuzione e ai dati raccolti c'è molta più roba nella porzione greca va bene ma guardiamo noi quindi da un punto di vista diciamo dei quattro dati che stiamo guardando la topografia la vediamo abbiamo già fatto prima un profilo possiamo provare a farlo anche qui sulle Alpi beh vediamo assolutamente una piana una catena diciamo il profilo montuoso e poi si scende verso un'altra piana da 0 a 3000 metri possiamo allontanarci un pochettino in modo tale da fare un profilo un pochettino più utile possiamo partire da qui e andare qui bene si ripete questa cosa cosa manca beh mancano terremoti mancano vulcani e mancano anche fosse perché ma come ci hanno detto tutti che le Alpi si formano con la subduzione sì con la subduzione ma poi con la collisione quindi il processo di subduzione è finito è terminato quindi quelle caratteristiche molto specifiche della subduzione non le vediamo più ci possiamo immaginare che ai tempi della subduzione anche qui fossero molti terremoti molti vulcani e anche una fossa tant'è che se invece andiamo più vicini qui in realtà che cosa vedete guardate cosa se io mi muovo in questa porzione si vede milioni di anni crosto oceanica che strano crosto oceanica di 16 milioni di anni giovanissima giovanissima più giovane di tutte le Alpi quindi la zona italiana la zona occidentale del Mediterraneo ha avuto un'evoluzione a seguito diciamo successiva alla formazione delle catene catene alpine diciamo assieme ci mettiamo anche i Pirenei recente molto importante che ha un po' anche scombusolato tutte queste cose ma tralasciamo un attimo quel passaggio quindi le Alpi mostrano tipicamente la topografia di un oggetto legato a un attività tettonica va bene quindi questo forte contrasto topografico è chiaramente un effetto legato a attività tettoniche ma mancano ancora due elementi fondamentali i terremoti e i vulcani in realtà questi oggetti ci sono o ci sono stati i terremoti è un po' difficile recuperare i terremoti passati perché noi sappiamo dallo studio geologico che la subduzione è avvenuta 60 70 80 100 milioni di anni fa quella che ha prodotto la convergenza tra le placche ed è terminata 50 40 30 milioni di anni in funzione di dove la vediamo quindi i terremoti di quell'epoca sono difficili da rivedere al contrario le rocce magmatiche i vulcani di quell'epoca si ritrovano e si ritrovano nella geologia di questa zona la geologia di questa zona la possiamo richiamare con geoma parma cioè noi possiamo anche qui aggiungere delle carte geologiche vedete che c'è geologia geological maps e poi in funzione delle zone geografiche possiamo selezionare ovviamente l'Europa addirittura c'è la carta geologica italiana oppure c'è quella europea proviamo a caricare quella italiana questa prende una carta geologica la scansione e la butta sopra quindi in funzione della qualità della scansione io mi posso avvicinare e unire l'osservazione che abbiamo fatto fino ad adesso con l'osservazione che posso fare con questa carta geologica credo che abbia dei limiti di zoom quello che si può vedere non potete vederlo benissimo non capisco bene perché non mi faccia zoomare di più strano allora quello che purtroppo vi dovete fidare cioè purtroppo speravo si vedesse ma non si può vedere allora io sposto questo e l'altro benissimo quello che si può vedere si sarebbe potuto vedere meglio ci sono degli oggetti arancioni rossi che sono dei corpi vulcanico magmatici che hanno tra i 30 e i 40 milioni di anni che sono esattamente quel materiale magmatico vulcanico che si è formato durante la subduzione o alla fine della subduzione che in qualche modo ci ricostruisce una memoria geologica storico storico geologica dei tempi ad esempio che adesso sono delle leutine o delle ande ok quindi è possibile ricostruire oggetti di quel genere mi spiace che non si possa zoomare di più chissà se l'altra carta ce lo promette provo questa o il gas non mi interessa ah no aveva zoomato non ce lo faceva vedere basta ecco qua eccola sta arrivando ottimo perché ci mostra anche sulla carta geologica vedete questi sono i vulcani allora qui noi sulla parte alpina dobbiamo eccoli qua questi oggetti rossi li vedete questa questa poi c'è un altro piccolino qui anche questi oggetti anche questi anche questi sono tutti corpi magmatici di vulcani vulcani c'è poca roba si trova qualcosa di resti di corpi vulcanici dell'età della subduzione ma non tanto purtroppo sono scomparsi o forse ce ne erano pochi al contrario se ne trovano e tutti noi li conosciamo Patrizia li citava prima una serie di oggetti come questi che sono i vulcani che noi conosciamo italiani allora proviamo a essere come si può dire scientifici in che tipo di ambiente si stanno formando questi allora io provo a fare due cose uno la topografia cosa che avevamo già fatto anche prima allora questo ci mostra una topografia molto spinta che ci porta dal terreno allo Ioniu poi ho dei vulcani adesso voglio vedere i terremoti li ho eliminati faccio una cosa aggiungo qua si fa difficile un po' più di terremoti parto da 4.5 così magari riesci a darmi qualche informazione in più perché so che in Italia e in Europa in generale la magnitudo è tendenzialmente più bassa oh ecco che ne ho un po' di più allora prova a fare quello che abbiamo già fatto prima per gli altri ce ne plotto in funzione i colori in funzione della profondità e voilà guardate anche qui ho terremoti da blu verdi gialli arancioni rossi rosine bianchi e le profondità sono di tutto rispetto da 0 a 600 700 km quindi qui ancora mi si uniscono delle informazioni oggettive del tutto oggettivo che mi fanno dire che molto probabilmente anche questi vulcani questi in particolare quelli del terreno sono associabili a una situazione tettonica di subduzione subduzione che vede vedete da meno profondi a più profondi vuol dire che la placca va da qui scende verso nord allora potrei fare la stessa cosa che diceva Patrizia prima qual è la distanza tra diciamo i terremoti più meno profondi e i vulcani 0 200 quindi rientra perfettamente in quello schema della leutine quindi abbiamo delle piccole leutine qui interessante potrebbe essere vedere il tipo di materiale il prodotto litologico che tipo di roccia viene prodotta come magma e quindi eruttata che tipo di eruzione abbiamo va bene con che geometrie come quelle che abbiamo visto prima quindi questo strumento ci permette di collegare noi quello che sta avvenendo o che è avvenuto Marsili qua io clicco ecco Marsili bello Marsili è un vulcano sottomarino tra i più monitorati perché chiaramente eruzioni sottomarine ingenti potrebbero causare per esempio tsunami o comunque diciamo in una un'area marina diciamo così ristretta chiaramente le coste interessate a uno tsunami qua sono molto vicine quindi è uno dei vulcani attivi più monitorato nel nostro territorio dopo ovviamente poi c'è Stromboli il Vesubio chiaramente beh insomma questo era quello che volevamo mostrarvi direi cioè che questo strumento ci dà molta libertà di viaggiare e di ripeto di accedere ai dati di usarli e di provare a capirli o per sfizio personale o per interesse un pochettino più approfondito ecco 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 mi chiedevo visto che con Google Earth è possibile per esempio scaricare cioè scusa non con Google Earth è possibile scaricare degli dei dati come formato leggibili da Google Earth mi chiedevo si può esportare perché per esempio con Google Earth se uno va sul sito degli NGV può scaricare non lo so i dati dei questionari di diciamo di percezione di un terremoto ad esempio e come diciamo come si chiamano adesso mi sfugge il nome il formato KMZ questo qua eccolo esatto ecco bello perché quello poi uno lo può piazzare su Google Earth e quello è interessante per esempio se posso condividere vai ma giusto così perché l'avevo fatto per diciamo ecco questo qui è un diciamo il risultato del questionario sulla percezione del terremoto che c'è stato con l'epicentro vi ricordate vicino a Ro ricordate recente di adesso l'avevo fatto vedere ovviamente è molto carino qui ci sono semplicemente la percezione della popolazione quindi ti dice il numero di segnalazioni utilizzate 25 l'intensità avvertita 4 e ovviamente tutti sono per lo più concentrati poi ti chiedi chi ha risposto al questionario ovviamente la sensibilità delle persone chiaramente ovviamente intensità 1 3 segnalazioni saranno mamma figlio e papà comunque a parte queste considerazioni è carino poi poter mettere i dati appunto del database interessante di geomap su google earth ti permette ovviamente una maggior diciamo se volete definizione della morfologia della geomorfologia chiaramente perché sono immagini satellitari esatto e quindi niente per esempio questo qui era interessante vedere come vengono visti i dati però mi chiedevo se era possibile appunto e qui vabbè il vantaggio di google earth è che uno può appunto girare andarsi a cercare i luoghi quindi se sopra ci puoi mettere il database interessantissimo dei dati di geomap comincia a essere interessante sì sì assolutamente fattibile vi faccio giusto vedere l'ho fatto adesso ho esportato questo oggetto come kmz e l'ho aperto su google earth questa è un'immagine ovviamente adesso vengono tutti i ristoranti fuori ma posso esportare anche i dati separati insomma certo certo bello niente vi ringraziamo sì se non avete domande se volete se volete contattarci in un'altra situazione ovviamente potete farlo basta scriverci e noi saremo molto felici di poter rispondervi sì va bene grazie a tutti grazie Michele come sempre grazie a voi